In questo stato della confederazione nordamericana, i coltivatori sono stati costretti ad aguzzare le risorse dell'ingegno, per combattere una precoce e inopportuna primavera che ingemmava gli alberi di pesco con due mesi di anticipo, nel pieno dell'inverno, quando ancora nuovi abbassamenti della temperatura sono inevitabili. Come vedete si sono dovuti improvvisare frigoriferi d'occasione intorno ad ogni albero, con blocchi di ghiaccio, che liquefacendosi e arrivando alle radici abbassano di parecchi gradi la temperatura della terra. Si riesce così ad arrestare durante alcune settimane questa intempestiva fioritura.